Una panchina rossa ormai simbolo della lotta alla violenza di genere al Parco Giotto, accanto al monumento dedicato al Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, a donarla a Comune l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Arezzo. Credo che oggi sia una giornata, diciamo così, bella, anche perché inizia la primavera e soprattutto è una primavera in cui si vogliono ricordare le donne colpite in maniera assurda e che in un certo qual modo devono essere riproposte al centro dell'attenzione. Noi ci siamo occupati molto spesso della violenza economica, che è il primo segnale di un percorso che è spesso drammatico. Abbiamo voluto lasciare un segnale, un segnale che rimarrà sempre nella città. Sono forse gesti che sembrano segnali un po' logori, un po' già utilizzati, ma evidentemente ce n'è ancora tanto bisogno. Ad offrire un contributo economico anche la banca di Anghiari e Stia, credito cooperativo. Tutti difendiamo i valori tutti i giorni e la donna oggi ha un valore da difendere. Scopriamo che pur andando avanti nel mondo ci sono sempre dei casi invece che sembrano riportarci indietro nel passato. Una nuova installazione che vuol sottolineare quanto importante sia il segnale dato alla cittadinanza. Come ufficio delle pari opportunità stiamo lavorando molto anche nelle scuole. Quindi presentiamo dei progetti per i giovani ragazzi, perché poi saranno loro gli adulti di domani. Quindi progetti di formazione, di informazione, di sensibilizzazione per educarli alla non violenza, alla tolleranza e al rispetto.